Il Vangelo di questa ventinovesima settimana Nel Vangelo di questa ventinovesima settimana noi troviamo due fratelli tra i discepoli che chiedono a Gesù, fanno a Gesù una richiesta un po' particolare Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra Se rimane un pochino così Nel Vangelo di Matteo questa stessa richiesta viene fatta dalla mamma di Giacomo e di Giovanni E questa è una richiesta che letta sugli altri Ci crea qualche reazione dentro, ci lascia forse sdegnati Però forse dobbiamo ammettere che anche noi a volte nei rapporti con gli altri nella vita di tutti i giorni abbiamo cercato il primo posto il posto di prestigio, qualche forma di potere o di supremazia sugli altri La cosa bella è che Gesù non si scandalizza Gesù non rimprovera i due discepoli e in qualche modo neanche noi per quello che a volte ci portiamo dentro Forse Gesù vorrebbe che noi imparassimo a conoscere un po' più profondamente chi siamo veramente e che cosa portiamo dentro il cuore A partire da quello che Gesù stesso ha fatto per noi Gesù ci dice, come ha detto nel brano evangelico Voi non sapete quello che chiedete E vorrebbe aiutarci a capire che il nostro desiderio più vivo, vero e profondo in realtà non è tanto il primato sugli altri, il primeggiare ma forse lo sperimentare, la relazione con qualcuno che sappia prendere parte alle nostre debolezze come leggiamo nella seconda lettura Infatti credo che a volte noi dimentichiamo che c'è qualcuno che non si scandalizza di noi delle nostre fragilità, dei nostri errori, delle nostre piccolezze C'è qualcuno che ci ama così come siamo perché ci ama e basta e per ciascuno di noi si è donato tutto e completamente fino all'ultima goccia di sangue Mi viene in mente l'episodio di Francesco quando era a Laverna e le fonti ci raccontano che chiedeva in preghiera San Francesco non solo chiede a Dio chi sia lui questo Dio che muore per ciascuno di noi ma chiede di potersi conoscere di fronte al crocifisso cioè di fronte all'icona di questo amore sconfinato, scandaloso e a volte imbarazzante Ecco, il primato, questa richiesta che i discepoli fanno a Gesù di primeggiare più che un desiderio è una vera e propria malattia qualche cosa che ci allontana dalla nostra umanità più autentica perché noi siamo stati creati a immagine di quel servo del Signore di cui parla la prima lettura, il profeta Isaia e i tratti di quel Signore che si fa servo sono appunto la mansuetudine e il servizio Gesù non è venuto per farsi servire è venuto per servire e dare la propria vita e riscatto per molti come leggiamo ecco, questo si chiama amore e noi siamo chiamati a fare altrettanto siamo chiamati ad amare, siamo nati per amare allora forse conviene mettere da parte questi falsi desideri che a volte affiorano nei nostri cuori lasciamo perdere la competizione tra noi il paragonarci, il primeggiare proviamo a regalarci quello stupore che aveva San Francesco di fronte al crocifisso proviamo a sperimentare come Gesù non si scandalizzi di noi dei nostri errori, delle nostre fragilità delle nostre richieste a volte un po' strane non ci rimproveri, tutt'altro ma ci ama, così come siamo donandosi completamente per noi per noi, per darci la vita vera lui si è addossato anche le nostre colpe e allora mi viene in mente quando ci sono quelle persone anziane tristi tristi perché non servono più a nessuno non servono più a nessuno nessuno ha più bisogno di loro o mi viene in mente quel caso di quei bambini che giocano a fare i grandi, gli adulti perché per sentirsi utili per sentirsi utili ancora un'altra immagine quella del disoccupato magari una persona che sa fare tante cose le sa fare anche molto bene ma vive in uno stato di frustrazione perché? Perché non trova un lavoro con cui rendersi utile perché la sua prima frustrazione non è tanto lo stipendio ma il sentirsi inutili ecco, credo che essere inutile non servire non poter rendere felice qualcuno sia davvero qualcosa che rende frustrati tristi e sulla soglia del fallimento questo è il vero e autentico fallimento della vita perché servire mettersi ai piedi di qualcuno rendere felice l'altro è una delle facce dell'amore e amare, come dicevamo prima è l'unico senso della vita siamo nati per amare frustrato, fallito, in fondo è chi non è capace di amare che il Signore possa cambiarci il cuore perché diventiamo capaci di amare capaci di servirlo nel prossimo senza nulla pretendere in cambio senza vittimismi e senza rivendicazioni grazie a tutti